Radio 105 TV, il meglio della musica e dell'intrattenimento di Radio 105, è sul canale 66 del Digitale Terrestre. Da settembre, dal lunedì al venerdì, tornano 105 Friends, dalle 10 alle 12, 13 PM, dalle 13 alle 14, 105 Music & Cards, dalle 16 alle 18. Ascoltaci e guardaci sul canale 66 del Digitale Terrestre. Radio 105, proud to be different. Radio 10